Nella giornata di ieri, come molti sapranno, è stato rilasciato un nuovo trailer di Pokémon Ultrasole e Ultraluna nel quale vediamo le nuove mostre Z di Sogaleo e Lunala, con ovviamente i relativi cristalli Z. Ecco, Takara Tomi, la celebre azienda produttrice di giocattoli, tramite il suo canale YouTube, ha svelato accidentalmente, forse, il cristallo Z di Mimikyu, che possiamo chiamare con il nome provvisorio di Mimikyu Z. Come vediamo, questo cristallo è stato quasi nascosto all'interno dello spot pubblicitario e, nonostante l'effetto di sfocatura, possiamo notare quelli che sono gli occhi di Mimikyu quando si arrabbia. La sua coda è una striscia seghettata che potrebbe ricondurci a magari il suo costume, il proprio Mimikyu, rotto. È ormai dunque questione di giorni per un'ipotetica probabile rivelazione di questa mossa Z, assieme a magari quella di Togedamar. Dato che, come abbiamo fatto notare più volte, essendo apparso nel primissimo trailer, o teaser, che dir si voglia, di Pokémon Ultra Sole Ultra Luna, assieme all'Aikarok Mimikyu, i quali hanno una mossa Z a loro dedicata, è molto probabile che anche il piccolo porco spino riceva il suo cristallo Z personale. Mi immagino già il nome Togedamarion Z. Inoltre, nello spot, per chi si interessasse di più alla serie animata, appare anche Ash con il cristallo Z di Solgaleo. Mmm, chissà, chissà. Dunque, come credete che questa mossa Z funzionerà? Magari Mimikyu potrà usarla solo se il suo fantasmanto non è ancora caduto? Oppure nel caso contrario, solamente se l'avversario gli ha smascherato il nostro Mimikyu? Chi lo sa? Io lascio a voi la parola nei commenti. Come al solito, se il video è stato il tuo gradimento, lascia un mi piace per sostenerci, condividi il video con i tuoi amici ed iscriviti se ancora non l'hai fatto. Qui, De Diego è tutto, ciao denatori! Grazie a tutti!